La presentazione che faremo qui riguarda la stima dei servizi ecosistemici in Rete Natura 2000 in Calabria e l'illustrazione dei vari metodi, dei vari approcci che abbiamo seguito per arrivare a una stima il più possibile ottimale in termini proprio economici, cioè il valore della natura da resso nullius, cioè cosa di nessuno, ha invece valore economico che può fornire beni, servizi e lavoro. I risultati più importanti sono effettivamente quello di aver trovato che una regione che ha un prodotto interno lordo estremamente basso, che è una regione reietta, l'ultima regione d'Italia, ha però un capitale risorse enorme che però non viene messo in reddito oppure viene maltrattato e distrutto dalle eco-mafie e dagli eco-reati. Quindi l'idea è quella di utilizzare i servizi ecosistemici e il valore che abbiamo trovato per metterli a reddito, per produrre in maniera ovviamente però sostenibile, cioè senza danneggiare il capitale risorse. Spesso mettere a reddito significa dare lavoro e ridare lavoro nelle aree interne all'homo sapiens che è scomparso, cioè alla parte degli agricoltori e di una forestazione sostenibile, che possono dare ricchezza e innalzare il prodotto interno lordo attraverso il capitale risorsa, ma mettendolo in sicurezza, cioè mettere al sicuro il capitale risorsa e sfruttarlo in maniera sostenibile.